Grazie Presidente, sarò velocissimo. Io volevo sottolineare una frase che ho sentito in questo Consiglio perché la ritengo positiva e tutto sommato assolutamente corretta. Il Consigliere De Priamo ha detto questo, Roma si può governare solo cambiando i poteri perché con gli attuali poteri non si può governare né ora né in futuro. Ecco, io la condivido in pieno questa frase, ma l'ho voluta sottolineare perché in questo Consiglio ho sentito troppi interventi che sono stati veramente in alcuni casi quasi imbarazzanti, perché è normale che ci sia una dialettica a maggioranza e opposizione, che questa dialettica ci sia tutto l'anno. Non è logico che in un Consiglio del genere, dove tutte le forze politiche sono unite nel fare un ragionamento, ci siano stati degli attacchi su certi aspetti politici che riguardano la vita di tutti i giorni di questo Comune. Ho sentito delle frasi veramente quasi imbarazzanti, tipo la macchina si è inceppata, non c'è lo sviluppo del personale. Ecco, noi siamo arrivati in questo Comune che i concorsi erano bloccati dal 2010, da quando siamo arrivati abbiamo assunto oltre 5.000 persone ed è cambiato il 22% del personale di Roma Capitale. Sappiamo che questo non basta, ma prima di noi c'era l'immobilismo totale, eppure è stata pronunciata questa frase. Dico solo un'ultima cosa. È stato detto che noi stavamo da politiche, noi stavamo decidendo per aprire delle biomasse al sesto municipio, questa è assolutamente una falsità, credevo che in questo Consiglio si potesse evitare. Chiudo questo intervento ringraziando il Consigliere Sturni per il lavoro che ha fatto e credo che questo sia un primo passo. Quando ci saranno i primi obiettivi inviteremo tutte le istituzioni, come giusto che sia. Grazie.